Sono Jacopo Felici, l'enologo dell'azienda Dei Montigulciano. Ci troviamo nella zona di Bossona, da cui appunto produciamo la nostra riserva, la riserva Bossona, che è un club, un 100% sangiovese. La nostra azienda dà un occhio particolare alla sostenibilità, in quanto noi non utilizziamo molecole di sintesi, quindi pesticidi di origine chimica, utilizziamo solo rame e zolfo. Qui abbiamo solo sangiovese, è una vigna da cui produciamo la nostra riserva ed è una vigna che ci dà particolari soddisfazioni. Abbiamo qua delle condizioni particolari dovute essenzialmente all'esposizione, l'esposizione sud-est e dal terreno, che fa soffrire un po' la vite, che quindi ci porta ad avere delle rese per ettaro abbastanza basse, si parla di 40-50 ambientali per ettaro.